nel falegname, che anche ci sono, ma invece far entrare direttamente in scena il visitatore. Infatti i gruppi sono scaglionati. L'unico neo per qualcuno, un pregio per altri, è che si formano un po' di code per il semplice fatto che noi facciamo entrare questi gruppi da 20-30 persone in modo che entrano direttamente dentro la scena, possono veramente toccare con mano gli attori e si immergono in un discorso spirituale, perché ricordiamo le 11 scene sono composte non solo dai figuranti, ma da una narratrice o narratore e anche da una sorta di guida e responsabile della scena. Walter, ricordiamo un attimino il percorso lungo il quale si snoda questo presello. Allora, per chi è pratico di Giulianova, chi arriverà quel giorno, ci sono varie zone dove parcheggiare e sistemare i propri automezzi, che possono essere la zona dell'ospedale civile e la zona dello stadio e vie adiacenti. Si arriva all'ingresso del centro storico partendo dal famoso Belvedere, ripeto perché è pratico di Giulianova, e si snoda lungo tutte le vie, diciamo, tortuose o comunque caratteristiche proprio del centro storico. Perfetto, allora ricordiamo il giorno e a partire da che ora? Allora, il giorno è Martedì, scusa, il giorno di Santo Stefano, 26 dicembre, dalle 6 alle 22. È naturale che anche chi arriva alle 22 può stare tranquillo perché noi, finché ci sarà la coda, finché ci saranno i gruppi, li faremo entrare. Se posso dire qualche curiosità? Certo. Questa sera sveleremo chi sarà la Madonna e il San Giuseppe e naturalmente i quattro bambinelli, per un semplice motivo. Essendo temperature molto rigide, cerchiamo di scaglionare un bambinello per ogni fascia oraria. Non è detto che riusciamo a trovare tutti i maschietti, ma ci sono anche delle femminucce. Assolutamente. Dietro tutto questo c'è l'associazione Unica Stella Giulianova e parrocchia. La parrocchia di Giulianova e ci terrei a dirlo perché comunque ci aiuta anche a livello economico il Comune di Giulianova e ringrazio il Sindaco per averci dato, come ogni anno, disponibilità per fare questo grande evento, considerato il massimo evento di punta per gli eventi di Giuliaventi Natale 2017-2018. Perfetto. Allora noi ci fermiamo per una breve pausa e poi ritorniamo qui. Restate con noi. Ed eccoci ben ritrovati in diretta. R9 Con, vi ricordo sono in compagnia di Walter De Berardinis e insieme a lui stiamo parlando del presepe vivente 2017 di Giulianova. Allora, Walter, dacci pure qualche chicca. Allora, qualche chicca. Vi posso dire che alcuni anni fa riuscimmo a portare la Natività sui canali della Rai a uno mattina perché si erano incuriositi che noi alcuni anni fa dovevamo fare per trovare sia la Madonna che San Giuseppe dei casting. E quindi è stata una cosa curiosa. Qualcuno probabilmente avrà criticato, però in realtà noi ero organizzato bene nel senso che c'era un teologo, una professoressa di religione, cioè anche la commissione era altamente qualificata. Un'altra curiosità è che ogni anno siamo ospiti dei colleghi vostri di Radio Vaticana da Roma, di cui io mi occupo insomma di weekend, di tutti gli eventi sull'Abruzzo. Un'altra curiosità è che proprio stasera sceglieremo la Natività, la Madonna e San Giuseppe e vi posso anticipare che probabilmente la Madonna sarà una giovanissima, come dalle Sacre Scritture, una giovanissima Madonna. Per chiudere volevo ricordare su questa manifestazione che l'ingresso è libero, totalmente gratuito, non si paga nulla. Chi vuole seguire o informarsi www.presepevivente.net o pagina Facebook Presepe Viventi di Giulianova o gruppo pubblico Facebook Presepe Viventi di Giulianova. Hai fatto benissimo Walter a ricordare dunque anche i vostri riferimenti per essere sempre aggiornati. Mi piaceva ricordare anche un'altra notizia, del resto tu sei appena giunto da una conferenza stampa, della consegna di un defibrillatore all'istituto comprensivo di via Oberdan di Tortoreto Rido. Sì, grazie che saluto perché ci sta ascoltando l'imprenditore di Tortoreto Gabriele Barcaroli che in occasione di un evento sportivo, in questo caso era un raduno di Ferrari, lui ha speso insomma il suo volontariato donando questo defibrillatore alle scuole di Tortoreto. Quest'estate l'abbiamo presentato alla stampa e invece oggi ufficialmente l'abbiamo consegnato alle scuole primarie di Tortoreto Lido, alla presenza della dirigente che saluto Angela Mancini, dell'assessore di riferimento all'istruzione e alla cultura che è Giorgio Ripani e Massimo Figliore che è il consigliere delegato alle attività sociali del comune di Tortoreto. Un gesto molto importante il defibrillatore insomma dentro una scuola. Sì, a termine di questa conferenza stampa, di questa consegna ufficiale l'imprenditore di Tortoreto appunto Gabriele Barcaroli ha invitato l'amministrazione comunale a fare dei corsi appositi per l'uso perché come molti sapranno non è che tutti possono usarlo ma bensì ci vuole personale qualificato. E quindi l'unica cosa che ha chiesto lui è di formare le docenti, il personale ATA e non solo. Lui nel suo percorso diciamo professionale intende per scaglionato per vari anni cercare di coprire l'intero territorio per quando riguarda le strutture pubbliche. Naturalmente pochi mesi fa anche il comune di Tortoreto ha fatto la stessa azione con una donazione di un defibrillatore per altre strutture pubbliche. Assolutamente insomma importante. Allora Walter, il tempo a nostra disposizione è quasi terminato, c'è qualcosa che vuoi aggiungere? No, niente, io invito i radioascoltatori ad essere presenti a questo presepivivente che volevo anche ricordare una cosa importante. Sempre alcuni anni fa l'assessorato del comune di Roma decise di aderire, di partecipare con una delegazione di disabili in modo che, perché il percorso non è ostacoli, nel senso che non è che ci sono gradini, bisogna fare delle scale particolari. Quindi è fruibile da tutti. È fruibile, anche se in pendenza, però questa delegazione viene addirittura con i loro mezzi di carrozzine. Quindi anche gli anziani possono partecipare tranquillamente. L'unica cosa che chiedo è la pazienza perché chi entrerà in ogni scena sentirà la voce narrante che racconterà la scena che sappiamo tutti del presepe. È ovvio, assolutamente. Allora grazie Walter per essere stato in nostra compagnia. R9 Con termina qui. Grazie a te.